Ci ha chiamato un signore che abitava nelle case dell'Ater, di Venezia. Non so se ci sta guardando, spero anche di sì. E lì c'è stato un po' di fraintendimento perché lui è di Venezia, abita in una casa popolare e quindi è considerata casa sociale in tutto il Veneto, tranne che a Venezia e a Belluno. Una vicenda che ha del surreale quella raccontata a linea diretta dal responsabile del CAF CGL Trevigiano, Pierluigi Cacco. A farne le spese non soltanto al cittadino che si è rivolto a loro per ottenere le esenzioni fiscali alle quali ha diritto chi abita in case popolari, ma tutti quelli che in provincia di Venezia si trovano nella stessa situazione. Queste esenzioni, che ammontano a diverse centinaia di euro all'anno, sono infatti concesse soltanto se l'ente che ha assegnato la casa la certifica come alloggio sociale nel contratto d'affitto, cosa che avviene nelle altre aziende venete ma inspiegabilmente non in quella lagunale. L'Ate di Treviso ha certificato che è casa sociale, quindi gli utenti vengono da noi e danno dei benefici fino a un massimo di 900 euro all'anno, giusto? Questo è successo in tutto il Veneto, tranne che a Venezia e a Belluno.